Sono due chimi natalici che canteremo l'uno dopo l'altro. Il primo è quello conosciutissimo che abbiamo anche nel nostro in alto della chiesa, il numero 521, Nato è Gesù. Altri lo cantono con altri protestori, per esempio, Lotte Benigna, o il tedesco Stile Nato, va a vedere poco conosciuto. Poi canteremo in latino, Adeste Fidelis, anche questo mi ha molto conosciuto. Poi canteremo in latino, Adeste Fidelis, anche questo mi ha molto conosciuto. Poi canteremo in latino, Adeste Fidelis. 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 Poi canteremo in latino, Adeste Fidelis.